La scuola di recitazione del Teatro Maruccino ha presentato l'Uviner di Santo Achieti, liberamente tratto dal dramma dialettale scritto da Aurelio Bigi e regia di Giuliana Tenucci. L'opera di Bigi ricorda come si viveva la preparazione e la partecipazione a questa processione agli inizi degli anni 50 dello scorso secolo e si soffermava sulla storia di questo evento, sul miserere di Selecchi, sulle tradizioni e sulle superstizioni che la circondavano, la forte religiosità presente in quel periodo. Prima del dramma vi è stata un'introduzione del presidente del CTA della deputazione teatrale Giustino Angeloni. Ma ascoltiamo Aurelio Bigi. 1950 sono nato e mi ricordo la processione che passava sotto casa mia e quindi tutta la preparazione che c'era, la processione e come si svolgeva la processione e poi c'erano delle tradizioni, anche delle superstizioni. Ad esempio si diceva a casa mia che lì dove si fermava l'angelo durante l'anno ci sarebbe uscito un morto e tenevo mio nonno che stava male, stava gravemente male e quindi era ansioso di sapere se l'angelo si stava fermando proprio sotto la sua finestra e purtroppo si fermò lì e infatti durante l'anno morì. Fu sicuramente un caso. Quello che è certo è che abbiamo una processione grandiosa con una musica eccezionale, con una preparazione e ringrazio di questo sempre l'Arciconfraterni del Sacro Monte dei Morti che l'organizza in maniera sublime. Ma cosa rappresenta il venerdì santo per i teatini il vice sindaco Paolo De Cesare? Un momento molto suggestivo con dei riti che si tramandano di padre in figlio e abbiamo inteso promuovere questa iniziativa ormai consolidata nel corso degli anni anche in un altro pilasto della teatinità oltre alla processione il Teatro Marruccino all'interno del quale attraverso la propria scuola di recitazione ci sarà questa pièce, questa rappresentazione molto molto sentita e che racconta i riti e le tradizioni.